The Fan King, con oltre 40 milioni di copie vendute, è certamente lo scrittore di maggior successo in America. Dai suoi romanzi sono stati tratti dei film eccezionali come Carrie di Brian De Palma, Shining di Stanley Kubrick, Carlo Rambaldi, tre premi Oscar per gli effetti speciali, creatore di fantastici personaggi come E.T., Alien, King Kong, Drew Barrymore, la deliziosa bambina interprete del film E.T. Perché il generale dovrebbe rubare il mio respiro se è il suo? Ah, beh, tutti gli animali devono stare fuori dalle case durante la notte, capisci? E specialmente i gatti, perché altrimenti si arrampicano sulle coperte e si siedono sul tuo petto, e poi ti succhiera tutto il respiro così. Ecco la scommessa che le propongo è semplicissima, quel cornicione corre tutto intorno al palazzo senza interruzioni, lei lo percorre tutto e avrà dei soldi e naturalmente mia moglie è pazzo. No, ma cosa sta facendo? Ma no, basta, no, così lo uccide! Uccidere un gattino innocente? No, no, è così carino. Accidenti, arrostisca pure tutti i gatti che vuole, ma se non mi fa uscire di qui, entro 15 secondi chiamerò la polizia e ci finirà lei dentro una gabbia. Sarà meglio che lei mi stia a sentire, signor Morrison, se lei fumerà. Mi porterete qui per infilarmi nella gabbia del gatto, magari. No, ci porteremo sua moglie qui e infileremo lei nella gabbia. Toglimi le mani di dosso! Dov'è mia moglie? Dov'è Cindy? Dov'è mia moglie? Dov'è mia moglie... No! No! Oh, no! 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 Grazie a tutti.